Una fiamma nel buio è il titolo della nuova edizione delle conversazioni con Ivan Illich raccolte fra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 dal giornalista e studioso canadese David Cayley. Questo libro era già stato pubblicato con il titolo conversazioni con Ivan Illich prontamente poco dopo la sua pubblicazione già nel 94 da Eleutera e lo ritroviamo qui però in una nuova traduzione e finalmente in una edizione integrale mentre quella originaria era stata leggermente accorciata. In questo breve spazio è impensabile spiegare chi fosse Ivan Illich e perché per alcuni è un pensatore straordinariamente importante e importante e necessario, in particolare per l'oggi. Possiamo cercare di collocare questo libro nella sua vicenda piuttosto ampia e articolata. Illich era nato nel 1926 a Vienna e sarebbe morto nel 2002 a Bremen in Germania e questo libro è stato il frutto di una conversazione più o meno di una settimana avvenuta nell'88 in Pennsylvania dove Illich e la sua cerchia in quel periodo insegnavano per alcuni mesi all'anno alla Penn State University. Poi c'è un capitolo il decimo finale che invece è frutto di una conversazione avuta quattro anni dopo nel 92 a Bremen. Qual è la specificità di questo libro nell'opera di Illich? È l'unico, intanto è un'intervista, è una conversazione che è un po' un'eccezione a una specie di proposito che Illich aveva avuto da un certo punto in poi al cui terrà fede in massima parte che è di non rilasciare interviste. Quindi è un'eccezione insieme a quella che lo stesso Cayley svolgerà più tardi, che poi in italiano si intitola I fiumi anoltre del futuro, che è un libro in cui Illich ritorna più sui temi religiosi e teologici. Illich era un prete per quanto prete cattolico, per quanto autosospeso, sì, nel 69, ma rimarrà un prete fino alla fine. Questa conversazione, una fiamma nel buio, è invece l'unica in cui Illich, è l'unico libro in cui Illich praticamente viene costretto un po' da David Cayley coraggiosamente a accompagnare i lettori nelle fasi della sua vita e attraverso le tappe della sua opera e del suo pensiero. È quindi un libro ideale sicuramente per chi vuole accostarsi al lavoro e alla figura di questo complesso pensatore. Allo stesso tempo, per chi invece ha già letto le opere o le più importanti, magari note, quelle panflete degli anni 70 di critica alla istruzione, alla medicalizzazione, alla tecnologia, per chi ha già letto libri di Illich questo è un libro imperdibile perché è appunto è lo stesso Illich che in qualche modo li descrive e li, come dire, mette in relazione gli uni con gli altri, facendo emergere la varietà dei temi affrontati, la varietà dei luoghi che Ivan Illich ha attraversato nella sua vita, in cui ha vissuto, dalla Mitteleuropa all'Italia, dove era stato ordinato prete, a New York, dove ha vissuto a lungo in seguito e al Messico, all'America Latina, a cui dedicherà una parte consistente della sua vita. La varietà delle lingue che Ivan Illich parlava e mescolava e sulle quali anche in questo libro riflette con grande profondità. E la varietà, è la quantità di figure, di amici, di compagni di strada che in qualche modo Ivan Illich in questo libro ricorda e rievoca. Le figure anche molto lontane, diverse da loro, che attraversano anche queste novecento, da Maritain a Paul Goodman, da Eric Fromm a Paolo Freire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.